Ci vediamo domani nell'auditorio e che non ti venga in mente di fare di nuovo la spia, capito? Ora ammogliamo questa mammoletta. Perché secondo me il problema di noi insegnanti è proprio intervenire su questi ragazzi senza violare, in qualche modo rovinare il ragazzo che porta con sé queste situazioni che non lo conosce. Faccio una foto in una situazione tra te compromettente e la faccio girare sul sociale network. Si vedevano puntare il dito e accusare. Gruppo chiuso, senza sapere chi lo dirigeva, quindi ognuno, cioè questi potevano avere il loro potere. La battutina ironica può passare per mai in fondo su ragazzi. Se c'è l'azione congiunta i problemi dimersano. Noi avverso un messaggio di io come te vorremmo che questo si portasse ragazzi a riflettere sul fatto che siamo uguali da un punto di vista di un'unità diversi nella nostra vita, ma uguali sulla vita. Grazie a tutti! Grazie